Tom e Jerry stanno per ricominciare nella grande città. Questo hotel sta per ospitare il matrimonio del secolo. Ritiene di avere le carte per questa posizione? Io brillo sotto pressione. Un'altra cosa. C'è un problema di topi. Come ha detto? Quel roditore ha spacciato. Non faccio mandare rovina a questo hotel da un gatto e un sapo. Non faccio mandare rovina a questo hotel.